Il futuro di Uni Magazine e Brotel Prof io lo vedo abbastanza rosio perché sono riuscito ad ottenere una partnership strategica con Molto Media. Molto Media è la società di Mediaset che si occupa di Talent Scout Web, un consiglio che do a tutti quelli che vorrebbero intraprendere questa professione è di cercare sempre queste forme di Talent Scout Web. In questo caso la raccolta dei progetti però scadeva il 10 dicembre, spero vogliate partecipare alla terza edizione su www.moltomedia.it quindi il futuro è, adesso che abbiamo preso questi fondi per finanziare il nostro sviluppo, comunque questa partnership, l'integrazione. L'integrazione significa che lo studente ha delle esigenze reali e deve rispondere immediatamente alle sue esigenze. Devo avere le informazioni che la mia università non mi dà, devo poter socializzare con i miei colleghi, devo poter sapere in anticipo il professore che domande fa, che tipo di professore è e come si svolge il suo esame e devo avere l'informazione universitaria che è quella che un po' ha guidato anche il nostro sviluppo. Quindi per me il futuro si chiama integrazione, integrazione e integrazione. Ovviamente dopo il consolidamento nel 2009 e credo parte del 2010 sul mercato italiano, dove puntiamo ad arrivare al primo posto, pensiamo di espanderci anche sui mercati europei. La mia idea è quella di creare un grande gruppo studentesco di livello europeo, proprio per poter fare sentire ogni studente d'Europa a casa sua, come se avesse quasi una piccola nicchia nel nostro sito.